Mi piace potare che è dietro nel Quilinanze, su Remoy de Verra, c'ha campi di arate, a Piricocco, a Nespodo, e io vado lì a potare. E pota, 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 lei non ha mai potato, potato, potato. Non l'ho mai potata. E lei deve potare, signorina. Ascolta, ma tra una potata e l'altra hai incontrato qualcuno di potata? Passano tutti gli alessi. L'altro giorno è venuto Renzi Matteo. Matteo Renzi, l'ex presidente del Consiglio. L'ex presidente del Consiglio, ma Castiamo, ma no, io sono di Firenze, da Braziotore a Firenze ha fatto il militare. Eeeh, pisciò sarno, psss, Alessia, non faceva. Ascolta, che periodo era? Era l'anno della nuvione. Mi sono messo nel Ponteviecco, ero strani in pallano. Un casino. Ma sto scherzando. Scherzando, ma che non mai. Ma scusi, ma gli uffizi? Gli uffizi si è raro, Alessia. Cioè, è la penera di Botticelli? La penera di Botticelli vendosi subito, è a mano Vrena. Grazie. Bravi, no, fatemi un applauso. Stanno bevendo il Mojito dalle quattro, è stato divosto un menta di processione, già è fatto. Quello è l'effetto, capito? Vabbè, Zio Torre, e quindi ciò, cosa gli ha detto a Matteo? A Zio Torre, Matteo, no, no, io sono venuto qui perché voglio fare qualcosa. Da una cabana in denegro, non si deve andare a dare, già è fatto. Che ha fatto? Grande figura in merda. Alessia, Renzi ha fatto un'entrata del Leone, una bestia. Eh, non si può dire, dai, Zio. Date il rosaicchio. Eh, piegiamola così. E poi, e poi ti incontro. Stavo, no, Matteo, capo di in denegro, e quando vedi la Boschi saluta la narate che prima o poi la fa in lina, tanto è cancarata al Boschi. Ma l'hai vista quando l'ho affermato di fronte a Sergio Mattarella? Dando a me che sei in salina, se tani. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi Matteo Renzi è passato, è arrivato Brunetta. Solo? No, era con gli altri nani e Bianca Neve. Poi, insomma, rovigato, e dice, boh. Se dovete accogli, ho fatto. De che non ho dovuto dire? Non va avanti, a giù. Non va avanti. A Lettia, erano lì a mano migliata, dopo la, beh, te ne tendi, la fiaba. Ma no, io sono un parlamentare e lavoratore. Bocadini, sa già che, sa già che è questa case, zartaria di scrazzamento in biglia. Vai a stanzare in biglia, roghe, non te lo dici. E gli dice, ta, 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 sta, scrazzando in biglia. Boh, insenta che è arrivato. E chi è arrivato? Peppinidum. Peppinidum? Peppino Conti. Giuseppe Conti. Giuseppe Conti. Ma il Presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio, ma no, qui commando io. Scusa, capa di cittinica che non ti do un'arraza, Salvini con Di Maio non ti fasi. Banco su Bidè, roghe tutto. Forza a scrazzare in biglia. Forza, Maio, Maio non arrago, che ti sei fa? Forza. E lei, Brunetta, gli altri scaltando, tutti scaltando. Ma adesso che li ha nominati, ma lei, Salvini e Di Maio, l'hai incontrati? Certo. Ah. Di barribasso, qua sta spingendosi, deve arrivare, tipo, picciocchetto, scilinguso. Spingi, tav, no, tav, sim, tav, no, tav, si, dav, no. Picciocchetto, io non si ci tesi, la tav, si sta stampa, da tutti, e l'uso di otto ore non c'è, quindi è casino. Stai una volta a scazzare. Poi mi sei girato Di Maio, ma no. Eia, eia, ah, da preteria, andando sui cocchietto sarda, tu picciocchetto. Adesso, perché deve parlare così? No. Cioè, allora, Virginia Saba è una bravissima giornalista sarda, facciamole un applauso, perché, insomma, non è che sia... Fatto, in realtà, mi dice che è stata sulla dame. Oltretutto, è serargina come me. Ah, quindi, ogni serargina c'è da caba da 1,5. Perché mi scusi, ho confiso qui. Sì, ti siete, quando io ho preso la letta. Eh, non si apprende, non si apprende in più su alco, c'è la letta. Dai, zio Tori, è che dobbiamo prendere. Bello, bello, a un certo punto li ho visti scalzando in vigna, c'era. Brunetta, Di Maio, Salvini, evito deficiente interventivo e Pino Conte, commenti tu s'appoggiati auto, e dice, ma là, mica mi assi tagli. Quando non fa, non fa, Alessia. Mi sta poscendo dalla capire elettorale. Esatto, venga qua. Dove? Sì, si afferda. Ma, zio Tori, ma la copa? Ma, mi scusi, ma sei grato o poi fico qualche cosa? Eh, tu grata, che poi, zio Tori, sono la russa di guardare i sovrini. A sta lavorando. Venga, non te so, c'è di basta, lo spirito è devastato. Venga, qua, zio Tori. Là, stanno aspettando che scendi dal palco. Velo. Eh, gen di gara lo primo po', ma gen di gara ti auguro. No, sia vero. Zio Tori, come canta stasera? Eh, come vuoi che canto? Facciamo una canzone a re. Ah, e come la faccio? A cappella. Eh, certo, se le piace così, le facciamo così. A cappella. Ah, la vedi qua lì. Forza. Eh, in questa bella vita, so bene a cantare, in questa bella vita, in questa bella vita, a tutti i decenni, con questa lezione, da chi ti ha fatto i diseggiare. Eh, ciao, eh. Ah, grazie Tori, ma non può fare così. Ehi, grazie. Ehi, grazie.